Signora, signora, questo è il tuo caffè, il loro caffè, il suo caffè. Qual è giusto? Was ist richtig? Ciao, sono Sara di Italienisch Lernen mit Francesca. Dubbi? Zweifeln? Con la forma di cortesia mit Öffentlichkeitsform in italiano? Oggi scopriamo insieme, heute entdecken wir, come funziona la forma di cortesia in italiano e facciamo un esercizio insieme alla fine del video e machen wir eine Übung zusammen am Ende des Video. Siete pronti? Allora, iniziamo! Aber zuerst vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Iniziamo! Fangen wir an! Allora, in italiano ci sono due forme come parlare con qualcuno. Gibt's zwei formen mit denen man ein Gespräch Partner ansprechen kann. Abbiamo la forma informale con il tu, seconda persona singolare, also informelle form, zweite person singolare, tu, e abbiamo la forma cortese, Öffentlichkeitsform, o la forma formale con il lei. La forma con il lei italiano è la dritte person singolare, also wir verwenden, noi usiamo la terza dritte persona singolare. Il tu in italiano lo usiamo con persone che conosciamo, Leute, die wir schon kennen, o persone che sono nostre amiche, also Leute, die befreundet sind. La forma con il lei, quindi la forma di cortesia, die Öffentlichkeitsform, la usiamo con persone che non conosciamo, die wir nicht kennen, o persone che sono più adulte, ältere Menschen, o persone o in situazioni più formali, also formelle situazioni. Allora, quando si usa la forma di cortesia? La forma di cortesia si usa soprattutto, vor allem, tra amici, also unter freunde, persone che conosciamo, ad esempio, zum Beispiel. Ciao Anna, come stai? Come stai tu, das ist gemeint. Ti presento il mio amico Marco. Quindi, hallo Anna, wie geht es dir? Das darf ich vorstellen, mein Freund Marco. Questa è una situazione informale. Nella situazione formale abbiamo Buongiorno, signor Rossi. Come sta? Das ist le gemeint. Le presento la mia collega, la signora Boschi. Questa è una situazione formale. E nella situazione formale usiamo, per vendere, buongiorno, buonasera, signore, signora. Perché è una situazione formale. Nella situazione informale, wir können ciao, hallo, verwenden. Dann, quindi, nochmal, ancora. Quando si usa la forma di cortesia? La forma di cortesia la usiamo con persone che non conosciamo, Leute, die wir nicht kennen. Per esempio, zum Beispiel, in einem Geschäft, in un negozio, o in Banca, auf der Bank, o dal dottore, beim Arzt. Oppure, con una persona che è più grande, ältere, o più anziana, als ich, di me. Slide 7. O ancora, se è una persona che non conosciamo bene, also eine Person, die wir vielleicht schon kennen, aber nicht so gut e vogliamo mostrare rispetto und wir wollen Respekt haben. Per esempio, un professore o il medico di famiglia, aus Arzt, oppure il padre di un amico, also Vater eines Freundes. Attenzione! Il pronome formale lei è scritto sempre con la L grande, also das formale pronome lei wird immer grossgeschrieben, um nicht mit den informellen weiblichen sigula pronomen lei zu verwechseln. Il pronome lei formale è uguale per un uomo e una donna. Also wir verwenden lei formell sowohl für Männer als auch Frauen. Ancora attenzione! Manchmal, qualche volta potete sentire in Italia come forma formale il voi. Ma attenzione! Questo non è più üblich, non è più comune. il voi formale voi als öflischkeitsform era usato wurde verwendet durante il fascismo. Oggi la forma di cortesia è con il lei. In Sud Italia qualche volta manchmal könnt noch hören voi als öflischkeitsform nel Sud Italia potete ancora sentire voi qualche volta come forma di cortesia ma questo è solo un residuo del passato come abbiamo visto la persona che noi usiamo nella forma di cortesia è la terza persona singolare per esempio lei come si chiama come vediamo si chiama è la terza persona singolare o signor rosti come sta o ancora dottor angelini di dov'è lei si sind alle verben die sind coniugiert alla terza persona singolare diamoci del tu ma che cosa significa diamoci del tu allora se siamo in una situazione formale e vogliamo cambiare pexeln con una situazione informale possiamo chiedere o offrire alla persona con cui parliamo di parlare con il tu tu in questa situazione possiamo dire diamoci del tu oppure puoi darmi del tu slide dodici al contrario se siamo in una situazione informale che non ci piace se in una informale situazione ma non vogliamo non la situazione è un po' aggressiva e vogliamo prendere le distanze e vogliamo abstand possiamo possiamo dire naturalmente naturalmente con la forma di cortesia anche l'aggettivo possessivo di possessiva cambia per esempio per esempio nella situazione informale l'aggettivo possessivo è ti nella situazione di cortesia o formale l'aggettivo possessivo è suo mit S grossgeschrieben per esempio questo è il tuo libro das ist dein buch oppure formale das ist ihr buch o ancora informale questa è la tua borsa ist das deine tasche oppure forma di cortesia questa è la sua borsa ist das ihr ihre tasche anche i pronomi diretti cambiano con la forma di cortesia il pronome diretto quindi l'accusativo con la forma di cortesia è la il pronome diretto con la forma informale è ti per esempio marco ti chiamo domani alle nove marco ich rufe dich morgen früh am um neun uhr questa è la forma informale e il pronome diretto è ti la frase formale signora o signore la chiamo domani alle nove domattina alle nove chiamo 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 in questo caso il pronome diretto è la ich rufe sie anche i pronomi indiretti cambiano il pronome indiretto nella forma di cortesia è le ihnen e nella forma informale è sempre ti dir i pronomi indiretti sono il dativo per esempio marco ti darà il libro domani marco gibt dir das buch morgen nella forma formale il signor rossi le darà il libro domani herr rossi o ancora ti posso chiedere un'informazione dar ich dir anche l'imperativo cambia nella öflischkeitsform nella forma di cortesia i verbi sono diversi sind anders nella forma informale con il tu abbiamo tre forme con i verbi nare ere e ire per esempio parla parla più piano spreche leisa oppure metti o prendere prendi il libro o ancora partire parti o finire finisci ricordiamo che l'imperativo noi lo usiamo per dare istruzioni vi verwende l'imperativo für hinweisungen oder befehle ist das befehlsform con il lei che la befehlsform lo puoi tagliare con il lei i verbi sono diversi per esempio parli più piano sprechen sie leisa oder prenda prenda quel libro per favore nemen sie dieses Buch bitte o parta oder finisca die endungen sind anders anche l'imperativo alla forma negativa è diverso nella forma informale con il tu l'imperativo si forma con il non con l'infinito del verbo non plus infinitif non parlare oppure non prendere quel libro oppure non partire oppure non finire nella forma formale o di cortesia abbiamo non con il verbo coniugato nella forma formale non non parli o non prenda o ancora non parta o non finisca non plus verb coniugiert in the öflichkeits form anche i verbi riflessivi cambiano nella forma di cortesia nella forma informale il pronome riflessivo è ti nella forma di cortesia e nella forma informale il pronome personale il pronome riflessivo scusate è sì per esempio Marco a che ora ti svegli la mattina Marco un wieviel uo vas tu morgens auf oppure forma formale cortese dottore a che ora si sveglia la mattina also herr doktor um wieviel uo wachsen si morgens auf für weitere grammaticale lektionen der mittelstufe interlasse ich unten in der beschreibung den link zur komplett playlist completa le frasi con la forma di cortesia giusta per le soluzioni für die lösungen guarde link sotto in descrizione schaue den link unten in der beschreibung grazie per aver guardato il video und wenn dir das video gefällt hat vergiss nicht ein like zu vergeben und den kanal zu abonieren cosa ti piacerebbe vedere nel prossimo video scheibe es in die commentare grazie e alla prossima lezione con italienisch lernen mit francesca a presto e ciao a a a